Di mattina sono partita alle 5 da casa per andare in aeroporto, per andare a Los Angeles. Una volta arrivata a Fiumicino, nonostante avessi già fatto il check-in online, sono andata chiaramente a dare il bagaglio e grazie a Dio ho scoperto che pesava meno dei 23 kg imposti da Ida. Risolta questa pratica, abbiamo deciso di superare subito i controlli di sicurezza per poter andare nell'area di Fiumicino dove chiaramente ci sono i negozi e dove si può fare soprattutto colazione, perché eravamo in piedi dalle 3 e ancora non avevamo né mangiato né bevuto nulla. Quindi, cornetto al pistacchio per me, cornetto al cioccolato con mia mamma che sarà la mia compagna di questo viaggio e poi per me l'ha temacchiato e lei cappuccino. Eravamo veramente in anticipo perché io mi chiamo Ansia e lei deve sopportare la mia ansia quindi siamo state ore e ore a girovagare nell'aeroporto ma non mi è dispiaciuto perché ho visto quest'area Luxury bellissima. Abbiamo preso un volo diretto Roma-Fiumicino-Los Angeles che partiva alle 9 e un quarto ma tra una cosa e un'altra abbiamo fatto un po' di ritardo. Ovviamente appena salita le prime due cose sono i check dei film e del cuscinetto che è comodissimo e soprattutto essenziale visto le 12 ore che mi aspettavano là sopra. Il momento del decollo necessario è la mano di mamma e poi è andata tutta in discesa. Abbiamo giocato ad uno nell'attesa e poi appena sono arrivate le cuffiette che vengono date solo dopo il decollo abbiamo iniziato la nostra maratona di film, ovviamente con il plate sulle ginocchia essenziale. Iniziando con Don't Worry Darling. Aspettatamente abbiamo pranzato prestissimo ma meno male perché noi eravamo in piedi da talmente tanto che avevamo già fame. Il caffè sull'aereo dopo pranzo al buio vita. In 12 ore abbiamo fatto tutto tranne che dormire. Abbiamo mangiato, visto Boris, controllato l'aereo tranne dormire. Finalmente siamo arrivate circa alle 2 del pomeriggio in America. Abbiamo poi preso un Uber per andare al nostro hotel che si trova in West Hollywood. Guardate che bello, se poi ve lo volete vi faccio un tour della stanza, fatemi sapere. Per concludere la giornata abbiamo deciso di andare in uno dei posti più iconici della città, ovvero il Rodeo Drive. Guardate che luci, io ce l'ho già stata ma è sempre stupenda. Non vedo l'ora di farvi vedere dove altro andrò nei prossimi giorni. Grazie.